buongiorno san paolo dagli studi di piazza benedetto callisto a san paolo benvenuti nella pineta degli italiani in brasile tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie luoghi imprese e persone alla ricerca dell'identità italiana in brasile e in america latina buongiorno san paolo l'italia è qui si parte buongiorno torna a san paolo benvindos benvenuti bentornati su buongiorno san paolo oggi abbiamo una puntata di ritorno perché alessandro dopo due anni è riuscito a tornare in brasile e a riportare il nostro podcast lì dove è nato nella pineta degli italiani bentornato adesso in italia però ale e siamo già ciao fabri l'italia è qui l'italia è ancora qui è ancora qui non l'ha spostata nessuno allora hai fatto finalmente di nuovo un po di mesi in brasile si è un'esperienza che ti mancava e ci mancava perché poi toccare di nuovo con mano i nostri contatti le nostre relazioni a san paolo insomma ci sono mancate si 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 fabri un po mi fa mi fa anche strano adesso perché ovviamente tre mesi sono tanti e sembra di di aver vissuto là alla fine no quindi però anche i due anni due anni pandemici e tutte queste storie insomma di non poter viaggiare o comunque avere difficoltà nel viaggiare sono stati tanti e quindi per un podcast che si chiama buongiorno san paolo non poter essere a san paolo non poterci andare per un po è un po complicato quindi si è stata un'esperienza fantastica magari oggi chiacchiereremo e parleremo un po anche di questo eh sì siamo tornati siamo tornati sei tornato perché io non sono non sono riuscito a partire questa volta però siamo tornati alla grande prima grande notizia importante notizia abbiamo avuto le chiavi dei nostri nuovi uffici sulla paulista sì 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 un piccolo piccolo ufficetto insomma di rappresentanza chiamiamolo così dove possiamo andare e tra l'altro anche c'è uno spazio dove registrare quindi sarà sarà fondamentale poi per tutti i nostri amici che ci verranno a trovare poter registrare con noi negli uffici appunto di buongiorno san paolo partendo da tutto online fare tutto diciamo su stream yard oppure nelle nelle camerette così con dei microfoni scarsi scaci e arrivare poi avere una piccola dimensione no tua senz'altro senz'altro molto bello è una bella soddisfazione ecco partiamo partiamo dall'inizio il viaggio intanto com'è come è stato perché poi è un via è un viaggio lungo bisogna prepararsi e tutto documenti viaggio si è lungo è sempre sempre quello diciamo che la pandemia non ha ridotto aumentato il viaggio quindi no è sempre un po stancante il ritorno è più stancante di solito ci si stanca di più a tornare in italia che andare in brasile cambia anche un po' l'umore volendo quando stai partendo sei tutto tutto contento ma avevi la mascherina in aereo o no si ci vuole ci voleva ci voleva ci vuole ancora per un po insomma e però si in realtà insomma ci vuole un pochino di pazienza perché sono sempre quelle 12 14 ore però diciamo che san paolo e l'ho ritrovata come 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 era se non anche meglio per certe cose ci sono tante polemiche legate alla politica ci sono tante polemiche per la per la gestione del del covid per come è stato gestito il tutto che non affronteremo oggi no perché non ci interessa noi e però in realtà dal punto di vista nostro è stato molto bello è stato molto bello è stato cioè è comunque un mercato in esplosione quello del digitale del marketing già già molto più sviluppato che in italia quindi con tantissime agenzie e tantissimi produttori creatori insomma di di contenuti di vario tipo tantissimi format programmi podcast radio e poi l'economia diciamo per quello che abbiamo visto passa delle delle difficoltà ma come le passiamo noi no sì certo poi tra l'altro eri sempre o a giocare a padel perché hai fatto un episodio sul padel o eri a mangiare perché sei andato con diverse aziende quindi praticamente ti hai trovato una comunità italiana però sei divertito non era sì 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 no no i temi trattati da bogio san paolo negli ultimi tre mesi sono tutti abbastanza simpatici no sono tutti poi gli italiani sono ovunque la quindi italiani c'è manca solo il macellaio italiano però no da italy c'è c'è sicuramente c'è il tassista italiano c'è quello che ha aperto il padel c'è quello che fa i consulenti quante ne vuoi ci sono c'è i parrucchieri italiani ci sono c'è la fioraia la fioraia c'è una fioraia italiana lo sapevi no c'è una fioraia italiana quindi diciamo che il lavoro non manca il divertimento nemmeno e e poi la città è in grande esplosione di costruzione edilizia e questo vuol dire che c'è una speculazione ai nostri occhi al nostro modo di vedere che però in brasile io non ho mai visto la speculazione edilizia cioè dice costruiscono costruiscono però questi riescono a venderle le case e in realtà non c'è speculazione sì semplicemente una città che viaggia ad altri ritmi a cui noi siamo più abituati e erano i nostri probabilmente degli anni degli anni 60 in cui vedevi tutto in moto vedevi tutto in ripartenza e tra l'altro non solo a san paolo perché poi uno degli episodi più più belli che hai fatto è stato quello di giundiai quindi ti sei spostato anche fuori da san paolo si 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 è giundiai si è stata un'esperienza bella perché giundiai è una città piccola che poi piccola per le dimensioni brasiliane in realtà è grande come firenze sono 400 mila persone quindi è uguale a firenze per lo meno la città città senza e con una rete industriale sviluppata logisticamente posizionata molto bene perché è tra san paolo il mare e altre città importanti e poi tantissime imprese multinazionali e non che hanno scelto la città come base coca cola pepsi sangoban la club in che fa papel cellulosa no carta eccetera i nostri amici città ma anche no italiani che stanno la ci sono tantissimi italiani e che hanno scelto proprio per la logistica no audere e le coprime di giundiai abbiamo fatto un episodio anche su loro e quindi no no è sicuramente è uno stile di vita diverso anche dettato dal come si può dire dal dal territorio no cioè hai talmente tanto territorio su cui costruire che tra l'altro voglio dire Brasile ha ancora tantissimo tantissimo spazio intoccato vergine no cioè molto di più che in Europa molto di più che in tanti altri paesi e poi tra l'altro è anche un'edilizia di sfruttata in vari termini quindi da investimento da uffici residenziale sta funzionando io anche per come mi ricordo di quando sono stato a san paolo sta funzionando ancora tutto tutto l'immobiliare mancano un po di campi di padel ma abbiamo anche su quello iniziato a fare no no il l'immobiliare è esploso è esploso i costi sono esplosi anche quindi costa tutto molto di più di di quando stavo la vivevo la fisso tipo nel 2015 16 i prezzi sono praticamente raddoppiati gli immobili hanno 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 valorizzato si sono valorizzati tantissimo e quindi però ci sono anche ripeto gli spazi perché la gli edifici vecchi non hanno un'importanza storica tranne quelli proprio storici no quindi quelli del cinquecento seicento ottocento sì però le costruzioni piccole degli anni cinquanta sessanta possono essere tranquillamente tranquillamente smantellate quindi vengono costruite tantissime tantissime edifici di 20 piani 30 40 anche di più e questo fa sì che ovviamente aumenti il giro vendi di più quindi c'è stata una come si può dire è stata aperta da parte del comune una licenza ovviamente a costruire no c'era stato un blocco negli anni passati e questo blocco adesso è decaduto quindi non sappiamo se c'è anche una speculazione da un punto di vista immobiliario però fanno delle belle strutture con tantissimi servizi e quindi la popolazione ne ha bisogno c'è un deficit abitativo e quindi vengono vendute sì tra l'altro proprio in termini di deficit abitativo non proprio diciamo nella città di san paolo però qui in questo caso parliamo di brasile in senso più ampio sei riuscito a incontrare anche la CEO brasiliana di planet smart city che è una società che noi italiana che noi avevamo intervistato in uno dei primissimi se non forse il primo episodio di buongiorno business avevamo raccontato questa magnifica storia della in questa società che progetta e poi costruisce città intelligenti città smart innovative sostenibili ma non per una fascia elitaria di pubblico ma per una fascia invece che a basso credito sì sì è vero è vero questa è stata una bellissima un bellissimo incontro la la susanna marchionni appunto l'abbiamo incontrata a san paolo è stato bello perché lei è un un uragano di idee di 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 veramente un'energia fortissima ed è bello perché perché comunque è anche il sinonimo insomma la traduzione del successo che sta avendo planet in brasile quindi basta una start up oramai non più un'impresa torinese che è partita proprio dal brasile come 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 mercato e che sta sviluppando tantissimo anche in altri paesi e i progetti sono veramente da da d'impatto sociale pazzesco soprattutto in delle zone come il nord est dove il deficit abitativo è ancora più grande e i servizi sono ancora più scarsi e quindi no l'esperienza è stata fantastica sì da un punto di vista proprio dell'incontro e di quello che poi ci ha raccontato un episodio che trovate su buongiorno san paolo a me è venuta la lacrimuccia quando diceva che a mezzanotte o in tarda sera lei va a correre sul lungomare di mi pare che lei abiti nella zona di fortale e eccetera io ero lì che mi riascoltavo il podcast mentre correvo in centro a torino tra un pezzo di verde qualche palazzo sì sì tra l'altro è una delle cose più belle diciamo poter correre nel lungomare a parte rio no che che poi la città che gli italiani conoscono di più però poi lungomare del Brasile si sprecano perché santos ha un lungomare bellissimo giù a pezzo a dove dove sto spesso dove vado spesso a un lungomare bellissimo fortalesa recife sono tutti belli e quindi sì poter correre in questi in questi posti è fantastico quindi poi l'hai detto adesso tra le righe però non è che sei stato proprio sempre solo lì a lavorare te ne sei andato anche a Joe Pessoa in vacanza insomma dai non è che sono tanti italiani con una settimanella dieci giorni più o meno e anche lì italiani comunque ce n'è in quella zona lì non tanti come come a san paolo però è una zona ci sono ci sono ci sono molti meno sono più diciamo nelle zone tipo fortalesa sono tantissimi recife ce ne sono natal ce ne sono giù a pezzo a che è una città poco conosciuta in italia tra l'altro una delle città più antiche del Brasile la città più a come si dice ad oriente no del del Brasile nella punta e però ci sono e hanno investito basti pensare alla fiat no la fiat ha investito non proprio a Joe Pessoa nello stato di fianco però praticamente è tra recife Joe Pessoa e ha costruito una fabbrica gigantesca e poi invece ritornando sul discorso di di san paolo visto che noi abbiamo anche una una rubrica che si chiama start up a se investidore sono in questi mesi tu hai avuto modo di essendo in città di frequentare anche i vari co-working vari acceleratori posti di di start up c'è un fermento enorme da quel punto di vista lì sì 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 stanno tutti gli anni fanno i record gli unicorni brasiliani ormai ce n'è gli unicorni brasiliani sono giganti stanno approdando anche in italia nessuno lo sa ma stanno approdando e sono già sono già quattro di noi ci circondano tra un po ma vengono in pace gli unicorni brasiliani vengono in pace tra l'altro ne abbiamo intervistato qualcuno proprio in questi in questi ultimi episodi parliamo di nubank parliamo di gimpas quindi comunque società gigantesche che arrivano dal brasile stanno sbarcando in europa da da protagonisti quindi noi che un po dall'italia guardiamo sempre agli stati uniti o a volte per alcuni mercati guardiamo all'asia ecco ti accorgi che anche il brasile sta sfondando dal punto di vista proprio dei dei numeri degli investimenti della della dimensione di queste di queste startup sì 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 no non si può fare l'errore di guardare alla società per come perché uno guarda la società e dice il brasile ha un deficit a una situazione diciamo talmente complessa che non si può permettere di arrivare nei mercati internazionali o non esiste il brasile tecnologico che noi pensiamo sempre solo alla povertà sempre solo al alle favele sempre solo a questo invece dal punto di vista tecnologico voglio dire a parte anche aziende meno tecnologiche da un punto di vista dell'innovazione no per dire l'imbra air un'azienda famosa brasiliana di aerei che arriva a vendere in tutto il mondo vende in tutto il mondo quindi no il mondo delle start up è sicuramente start up che poi diventa uno scale up insomma è sicuramente esploso noi abbiamo tra i nostri amici e consulenti no anche degli specialisti come marco marco debiasi che segue il mondo delle start up proprio da al di dentro dentro del founder institute e noi ci sentiamo un pochino start up anche se abbiamo forse un lato tecnologico non così no così pronunciato però ci sentiamo start up nella filosofia e nel modo in cui siamo partiti nella start up asciutta no cioè cercare di di correre rincorrere i costi beh certo però siamo anche una start up tradizionale quando si tratta di fare le pause prendersi un caffè bravissimo facciamoci un caffè un caffesigno oppure un e dopo il caffè l'ammazza caffè oggi facciamo l'ammazza caffè allora ammazza caffè a tra poco buonasera mi fa un caffè subito acquisire un nuovo cliente costa in media sette volte di più che mantenerne uno vecchio quindi diventa fondamentale saper comunicare con la propria community con i propri clienti crea il tuo podcast per raccontare la tua impresa con i produttori di buongiorno san paolo molto gustoso questo caffè e soprattutto l'ammazza caffè che è un momento per noi italiani molto importante 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 sì a voglia e dopo dopo l'ammazza caffè però noi sempre per proseguire nella nostra tradizione culinaria mangiare sempre un cioccolatino o un dolcetto e qui mi viene in mente che cioccolatino hai avuto la fortuna beato te di andare essere invitato da Ferrero mentre venire a san paolo al loro pranzo al pranzo di pasqua dei se il pranzo il pranzo di pasqua però in cui avevano invitato tutti gli influencer diciamo le influenze che erano tutte donne e poi c'ero io e come al solito beato te c'era anche la mia fidanzata quindi non ti preoccupare però si è tutte tutte diciamo influencer brasiliani brasiliane appunto invitate a questo pranzo di pasqua però in cui si si faceva era un momento per ritrovarsi tra l'altro un momento delicato perché c'era stato no per Ferrero a pasqua c'era stato quel quel problemino no della in belgio e quindi è stato molto bello perché ci hanno invitato come dei piccoli influencer perché non è che possiamo negare siamo dei piccoli dei nano influencer tra italia e brasile però molto specifici e quindi abbiamo fatto anche questa 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 bella esperienza insomma sì però insomma la comunità italiana a san paolo ecco si vede che comunque molto unita e molto collegata noi ne abbiamo avuto anche un bel esempio adesso che abbiamo iniziato la la collaborazione con l'italcam no si è bella anche quella dove c'è una famiglia di imprese una grande famiglia di imprese italiane presenti sul territorio di di san paolo anche noi adesso inizieremo a dare il nostro il nostro apporto il nostro contributo ecco e anche lì ti sei sentito un po a casa no tra aziende italiane eh sì la cosa bella da ricordare sempre un mantra oramai uno slogan in in brasilia ci sono mille aziende italiane mille imprese italiane un po meno novecento e qualcosa sono quasi mille e quindi la camera di commercio di san paolo la la ital cam la camera italia brasiliana ha un ruolo fondamentale perché dirige questi cioè dirige questi rapporti gestisce questi rapporti bilaterali commerciali importantissimi e ci permette a noi di fare anche un'esperienza lavorativa di produzione di contenuti molto importante soprattutto per i podcast per i video per le interviste poi per tutta la parte dei social perché le imprese sono sono quasi tutte legate all'italia e poi tra l'altro un'altra cosa le imprese anche quelle italo brasiliane sono tantissime per esempio ne voglio citare un paio la de tommaso che è un'azienda che produce una piccola industria una piccola fabbrica che produce antipasti che sono tra l'altro anche per noi un è stata una conoscenza graditissima perché abbiamo mangiato con loro abbiamo non usare io ho mangiato e fabrizio la prossima volta e quindi tutte queste aziende sono sono veramente tante cioè sono di origini italiane italiane sono degli anni non so 50 60 di origini calabresi origini venete quindi hanno tutte un trascorso italiano fondamentale poi aspetta ci sono gli italiani di oggi che sono andati là ad aprire un ristorante ad aprire una piccola fabbrica ad aprire c'è c'è addirittura che ha aperto una fonderia in brasile a parte i gruppi internazionali no la tec int che sono gruppi giganti ma ci sono anche famiglie italiane hanno deciso di aprire una fabbrica ci sono ristoranti come crostini ad esempio salutiamo augusto un abbraccione che sta esportando il frico il frico il frico ma dice hai scassato la waller a questo frico perché dice non riesco a farlo tutti ora me lo chiedono hai fatto una pubblicità a parte gli scherzi è costretto a fare un fuori menu e quindi quindi niente questo tipo di rapporto è stato è stato fondamentale perché nel corso degli anni ovviamente stando in una città come questa abbiamo conosciuto tantissimi tantissimi italiani tantissime persone alla fine che hanno delle imprese e che poi si sono si sono ritrovate a fare delle delle attività con noi e quindi questo è molto bello non so ecco se se a giacarta sarebbe possibile fare la stessa cosa non so se se in thailandia sarebbe possibile sicuramente a san paolo è possibile quindi ringraziamo san paolo per questo è certo no vabbè è la comunità la comunità italiana san paolo c'è si sente e tra l'altro noi cerchiamo a new york a new york sì ecco forse altri posti magari qualche città del canada però insomma cercare di dar voce anche a tutti a tutti gli italiani o a tutti i discendenti di italiani a san paolo ma ci vuole anche del tempo no tu sei stato sei stato a san paolo tre mesi però tra una comida e l'altra comunque il tempo il tempo vola passa molto in fretta e riuscire anche a materialmente incontrare tutti quelli che magari sentiamo durante l'anno o con cui abbiamo fatto delle degli episodi nelle precedenti stagioni ecco è sempre un po anche tutto di tutto di corsa se si no il tempo il tempo vola il tempo a tiranno perché in queste città non riesce a fare degli appuntamenti un po anche nelle nostre magari tipo a roma così non riesce a mettere tre appuntamenti in una giornata così tranquillamente da una parte all'altra della città quindi il tempo il tempo vola veramente poi c'è anche una cultura no che influenza un po il tempo no cioè magari hai bisogno di più tempo per fare certe cose perché le riunioni magari ti portano a pranzo si portano a cena quindi fissare un pranzo non è come fissare una call una chiamata su zoom e poi logisticamente anche alcune aziende italiane che sono presenti in Brasile hanno alcuni responsabili alcuni CEO vertici aziendali che ovviamente non sono sempre fissi lì e quindi bisogna anche far quadrare i tempi tra quando sei stato lì l'arrivo magari dell'intervistato che dove che doveva arrivare sì sì è vero è vero è vero anche questo è tutta una parte organizzativa è fondamentale quindi anche su questo dobbiamo ringraziare tutti i collaboratori che abbiamo avuto insomma nel corso di questi mesi e tutti gli amici che ci hanno aiutato perché senza questi professionisti poi impossibile è come è un po come questo studio no? cioè ci sono dei professionisti dietro che ti aiutano per fare questo tipo di realtà cosa che fino a pochi anni fa non si faceva non si pensava perché magari facevi tutto online perché era un hobby perché era una cosa così improvvisata quindi sì oggi improvvisiamo ma cerchiamo di improvvisare con un po' di metodo sì anche con un po' di struttura buongiorno San Paolo è cambiato molto in questi in questi anni quindi dall'avventura che avevi che avevi iniziato tu a Pigneiros a oggi in cui appunto ci rapportiamo con con aziende con associazioni di categoria e non più solo con italiani che abitano che abitano lì sì oltre ad avergli anche dato l'altro volto no? il volto dei brasiliani in Italia quindi sì 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 è vero è vero è vero sì infatti questa cosa in realtà è un grande è un grande vantaggio perché cioè noi riusciamo a essere sia qua che là e quindi essere anche in Italia è molto vantaggioso perché prima di tutto l'Italia non è che l'Italia rimane uguale cambia nel corso degli anni un po' meno cioè un pochino più lentamente forse che il Brasile però per dire la gastronomia italiana cioè domani c'è una nuova ricetta che in Brasile arriva fra tre anni quindi se non riesci ad adattarti o non riesci ad aggiornarti tu ti perdi e fai ancora le bracioline come le faceva la tua nonna cioè e quindi voglio dire questo è importante perché specie nelle città dove c'è stata un'immigrazione massiccia quindi ci sono le ricette di cent'anni fa quindi avere questa sponda è fondamentale perché ti permette di scoprire la start up che a Bergamo si è buttata in Brasile perché hanno scoperto che dallo zucchero nasce non lo so riducono l'impatto ambientale piuttosto che la scarpa di lana di Biella che viene utilizzata dai brasiliani questo era un assurdo se tu stai solo in Brasile queste cose non le puoi fare o perlomeno non riesci a agganciarti che poi a volte succede perché gli italiani poi si dimenticano dell'Italia o per motivi di lavoro che devono stare sempre in Brasile non tornano spesso i brasiliani stessi tra l'altro proprio in tempi di pandemia hanno avuto anche dei problemi a venire in Italia ne avevi parlato in un episodio sì 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 hanno tanti problemi dei brasiliani e sono stati un po' diciamo discriminati perché sì venivano dal Brasile quindi Brasile doveva essere questo paese che infettava e poi voglio dire noi eravamo stati i primi a infettare tutti poi non era colpa nostra però e quindi niente però ci sono dei problemi ovviamente burocratici ci sono stati eccetera eccetera e poi c'è l'altra faccia dei brasiliani che vivono in Italia che quindi hanno un rapporto con l'Italia molto più profondo che vogliono aprire imprese in Italia o che l'hanno aperta ovviamente molto molto minori rispetto agli italiani che sono là sicuramente i brasiliani che vengono per turismo sono tantissimi guarda un dato dei brasiliani a Firenze il Brasile è il quarto paese extraeuropeo più presente a Firenze quindi Stati Uniti mi sembra sia Cina sicuramente poi c'era la Corea o il Giappone e poi il Brasile quindi è comunque comunque un dato rilevante perché uno pensa sempre agli Stati Uniti sempre a altri paesi e poi arrivano anche i brasiliani no ma i brasiliani ci sono ma non si vedono ho avuto occasione di parlarne con un ragazzo brasiliano di Torino altra città piena di brasiliani a mia totale insaputa e in effetti a Torino ovviamente magari si sono anche mimetizzati con la cultura locale quindi sono più riservati e si notano meno però non è una popolazione che si è abituato a dire guarda quanti brasiliani ci sono in città non fanno tanto casino no sono meno evidenti sia dal punto di vista dei magari dei negozi come possono essere i cinesi che ne vedi di più come altre attività si integrano molto anche dal punto di vista delle aziende del business della città quindi anche della ristorazione ci sono diversi ristoranti brasiliani che magari non sai che sono brasiliani sì è vero è vero no sarebbe bello fare un'analisi di tutte le comunità non italiane e capire quali sono quelle più imprenditoriali quelle più investitori quelle di più lavoratori no perché i brasiliani a Milano tu mi dicevi no che hanno hanno addirittura comprato dei brasiliani hanno acquisito delle discoteche o dei locali famosissimi sì due delle discoteche più importanti di Milano sono di proprietà di un brasiliano lo stesso vale poi come dicevo prima di ristoranti che proprio per questo eterno ritorno delle famiglie italiane andate in Brasile e le nuove generazioni tornano qua in Italia loro hanno avuto il piacere e l'interesse di studiare l'italiano di voler tornare in Italia quindi spesso aprono delle attività che hanno dei nomi italiani loro all'interno parlano italiano e non ti accorgi praticamente quasi dell'accento a volte e quindi non sai che esistono ma ci sono sì poi non ci dimentichiamo che sono italiani alla fine la maggior parte sono italiani nel senso cognomi italiani ma anche carta d'identità passaporto italiano quindi l'integrazione è molto molto più semplice rispetto a un egiziano rispetto a un arabo molto molto più facile l'integrazione sì il tema del visto del passaporto dei brasiliani del passaporto italiano è anche uno degli altri nostri temi più toccati nel podcast ne abbiamo parlato diverse diverse volte direi che siamo alla frutta la frutta brasiliana non abbiamo una frutta non abbiamo una carambola avevamo la bananigna ma l'abbiamo lasciata a casa cavolo avevamo la bananigna e ci manca anche il caffesigno io resto un grande amante dell'assai che tra l'altro in Italia comincia a vederse l'assai è qui c'è in Italia c'è in Italia diciamo che la frutta brasiliana a parte che ha un altro sapore però ci sono proprio dei frutti che qua non arrivano siamo riusciti a importare di tutto negli anni e nelle epoche però quando vai lì appunto ci sono questi colori, queste forme sono quelli veri no no molto buoni molto buoni però l'assai si trova l'assai si trova in Italia abbastanza facilmente insomma Alessandro quindi bentornato non mi sento a mio agio perché di solito faccio io le domande oggi le hai fatte tutte mi sento l'ospite l'ospite vorrà dire che la prossima volta parto io per tre mesi in Brasile e ti piacerebbe e poi mi fai, faccio con la puntata del podcast no no va bene comunque l'esperienza è veramente veramente bella è un'esperienza di vita e di business anche da fare se non si fa quella di business comunque si può fare quella di vita quindi andarci in vacanza o per curiosità e se si fa quella di business ancora meglio ah certo infatti noi abbiamo chiamato una parte del podcast buongiorno business buongiorno business esatto va bene grazie ancora grazie a te e grazie a voi cari amici ascoltatori come sempre quindi l'Italia l'Italia è qui è qui un abbraccio ciao abbraccio l'episodio di oggi è stato offerto da Dollare se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia trasparenza e agilità allora Dollare è la tua scelta richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br hai bisogno di cambiare? rivolgiti a Dollare